oh mamma oh mamma non mi non c'è la faccia più non mi s'apporto più e che mi ha messo a posto della spesa mi sono messo a posto io voglio accattare io io voglio accattare io mettimi i soldi qui mettimi i soldi qui c'è la vita che ha c'è la vita che ha c'è la vita che ha che cazzo vi ha fai bene e fai fai sbatti i puni qui c'è la stucca o no? qui che facciamo rire dell'italia qui che facciamo rire dell'italia la colletta te la facciamo a fare moccate tutto l'indonesio sto babbione da merda mamma mia ma manco con l'ultima inglassiva che facciamo un utile import con l'ultima inglassiva che non vengono la partita e la roba da non uscire più di casa ma stiamo scherzando stiamo scherzando ma ci volete pagare per quello per quanto anno? io voglio pagare questi cazzo di giocatore o no? è finito il mercato questa busta abbiamo il mercato a fare la colletta per te l'indonesio di questo cazzo madonna mia allora ora la vita senta a me ma già ora mi hai rotto il cazzo brutto ma già sono 9 partite che hai fatto 8 pareggi una vittoria a culo con Milano una vittoria con Livorno inguardabile che Bardi si è fatta l'autoretto perché senza fare l'autoretto manco con Livorno vengono gioco pietoso giocatori fuori condizioni non arrivano la palla e questi cazzo non meritano niente quando l'interno quando la cazzo ti vuoi pagare adesso sti cacando un cazzo non dino uno schema di gioco non fanno un passaggio filtrando non fanno una sovrapposizione non sanno crossare non fanno un corso per punizione ma che cazzo fai da questo allenamento? che fai da questo allenamento? che hai rotto il cazzo? tu hai frusta lì fai schifo Mazzarra questo è pure colpa di tutti 9 partite 3 punti avessi già cacciato chiude l'eliminazione in coppitali ma che cazzo stanno aspettando a cacciare? Allegri ha fatto la paga ha fatto meglio di Mazzarra e hanno cacciato stanno rubendo il cazzo non è il problema che non fai i punti è che gioca da schifo gioca da merda è una merda il gioco di questo qua non è uno cazzo di schema perché questi quattri hanno una palla ma che vuoi fare un'azione con i Catani che ha pegato il primo punto? che vuoi fare o no? manca uno punto fai? manca tre punti in questo caso con il primo classico ma che vuoi fare? vuoi fare un'azione con i Catani? questo bambino? che non è venuto un cazzo di scontro diretti? è rotto il cazzo tu sei frustato è rotto è rotto il cazzo è rotto se avete niente da questa squadra questa palla a casa ci assomigliamo che io come la parrocchia assomigliamo che io come la parrocchia assangere perché questa palla a me non cazzo cacatame dopo morte tra i terra ma non cazzo li ha pegato se c'è nessuno che non vuoi andare a squadra a me che ha posto delle mannezze non mi ha fatto la spesa non mi ha fatto per colpa te perché hai pegato il belfotello per cazzo che belfotello è un cazzo come te ma ce l'hai detto a quest'emma belfotello chi è da me? ma perché non devi ha pegato cazzo per se mi si presta da una volta a re che hai dei scarponi non cazzo che la palla non arriva a Milita e Palazzo hai capito o no? hai colpa a te che hai voluto questi giocatori di merda hai visto che hai voluto tu cerca di fare il schermo per quei giocatori di merda che hai voluto mannaggia anche te è morto mannaggia questo palenco di merda ma vedi che figli schifo c'hai rotto il cazzo che fai sopra sotto la panchina che cazzo scrive se ho fatto quella acquina che frusta lì che scrive la medicina che cazzo scrive che non si vede l'azione ma sto coglione di merda ma è stata una cosa un vomito schifoso non è possibile l'inter più scandalosa degli ultimi 50 anni è questa qua quella di Giampiero Mareni è meglio quella di Bagnoli è meglio quella di Ottavio Bianchi è meglio ha più schifoso tu fai schifo vergognati appuntamento a domenica prossima e speriamo che in un'unica della Madonna se riusciamo a fare un paretto ma se io come in Youtube 7 ce ne prendo vergogna a